Benvenuti al campus di Savona. Un campus intelligente e che rispetta l'ambiente. Il campus è una delle postazioni di bici in città Savona, il bike sharing nel comune di Savona, metodo più ecologico per raggiungere il campus. Entrando nella vera natura del campus universitario di Savona, esso è sede del primo concreto esempio di micro rete energetica intelligente in Italia. Si tratta di un concreto laboratorio per sperimentare la smart city. La micro grid del campus universitario di Savona è smart, questo perché gestisce efficacemente l'energia prodotta al suo stesso interno. Ciò rende possibile elevati risparmi economici e riduzioni dell'impatto ambientale. La sala di controllo è al cuore della micro rete di Savona e chissà quante altre opportunità ci riserva il campus di Savona.